La città di Agropoli continua a vivere momenti di grande apprezzione. Nella giornata di ieri dal Cotugno di Napoli non è arrivato nessun risultato degli 11 tamponi provenienti da Agropoli, prelevati su persone state a stretto contatto con la professoressa 57 nel risultata positiva al coronavirus. Purtroppo i tamponi riguardanti i soggetti posti in isolamento ad Agropoli sono arrivati tardi presso l'ospedale Cotugno e non è stato possibile inserirli nella verifica di questo pomeriggio. L'ambulanza, infatti, dopo essere stata ad Agropoli, ha fatto tappa anche a Sarno per espletare il medesimo servizio, arrivando a Napoli intorno alle ore 20, troppo tardi per eseguire le analisi dei tamponi. Ragion per cui è tutto rinviato a domani mattina e i risultati si conosceranno nel primo pomeriggio. Vi terrò aggiornati queste le parole del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, con le quali nella serata di ieri ha annunciato la mancata analisi dei tamponi. Il verdetto dei test, quindi, è stato rimandato ad oggi pomeriggio, quando si saprà se il caso della professoressa agropolese ha causato altri contagi da virus. Intanto la donna si trova in isolamento all'ospedale napoletano Cotugno, dove non è in gravi condizioni, ma presenta tosse e febbre.